Allora entro e vedo Giovanotti che intervista Bon Jovi, mi sono cagato addosso e per due mesi non ho aperto bocca. Mi ricordo quando arriva io c'erano Amadeus, c'era Fiorello, c'era Tony Severo, Giovanotti, Linus, questi avevano il cerca persone, la macchina figa. Io ho associato i soldi alla bravura, più soldi più bravo, non sentendomi bravo, pensavo ottenendo più soldi butto fumo in faccia alla gente e gli faccio credere di essere bravo. E quello è stato il primo errore.